Piazza San Giovanni Sono viste in abbondanza Abbiamo intervistato alcuni partecipanti Perché lei oggi si trova in Piazza San Giovanni? Per dire sì alla famiglia naturale Quella fondata sul matrimonio La famiglia secondo lei ha ancora un valore? Sì, è un valore ed è uno dei più grandi valori della società Senza la quale penso che la società si autodistruggerebbe Perché la famiglia è il luogo dove si impara ad amare Dove si impara ad ascoltare Dove si impara la complementarietà, la differenza Dove c'è lo scambio dei diversi aspetti della persona umana Dove c'è lo scambio di completamento Altrove non penso che ci sia questa possibilità E condividere questi valori